Questa risoluzione chiedeva l'istituzione degli euro bond, che non è nient'altro che un meccanismo solidale di distribuzione dei debiti a livello europeo. Quello che noi chiediamo al netto del discorso del debito immorale è quello che noi chiediamo per creare di nuovo una comunità europea e non un'Unione Europea. Ebbene, su 700 erotti parlamentari del Parlamento Europeo, 600 hanno votato per gli euro bond. Però alla fine la Commissione e il Consiglio non hanno voluto assolutamente prendere in considerazione questa risoluzione e tuttora quando interrogati ci dicono che di euro bond non se ne parla. Quindi questo lo facevamo ieri sera, ne discutevamo ieri sera quando stavamo assistendo a questa scena impietosa di una Camera che ha quasi due terzi di maggioranza, perché tra gli ex di scelta civica e il premio di maggioranza del PD raggiungono oltre la metà abbondante, non furono capaci ieri sera di tenere, non sono stati capaci di tenere il numero legale. In questa situazione surreale, in cui non sapevamo che finavano fatto tanti parlamentari della maggioranza, c'erano oltre 60 assenti solo del PD, si discuteva del fatto che anche lì ci ritroveremo a fare un discorso simile a quello che facciamo in Parlamento italiano, cioè quanto valgono gli eletti dal popolo all'interno delle istituzioni europee, quanto valgono i nominati. Anche in Italia abbiamo questa situazione, noi abbiamo fatto un anno a discutere del fatto che ci sono i parlamentari eletti e c'è un governo che gode semplicemente del voto di fiducia, nominato ovviamente dal Presidente della Repubblica, che fa dei decreti legge che rappresentano la funzione normativa del Parlamento che si è trasferita nell'esecutivo, quindi da legislativo all'esecutivo e vi stiamo facendo il discorso da un anno che noi facciamo di tutto per attrarre di nuovo le decisioni tra gli eletti del popolo piuttosto che a Palazzo Chigi e nelle sedi di governo del Ministero. Questo è un tema di cui si è discusso pochissimo negli ultimi 20 anni, la separazione dei poteri, il fatto che il legislativo deve fare le leggi e l'esecutivo le deve eseguire, le deve applicare, però in sostanza anche lì ci ritroveremo a fare questa discussione, ci ritroveremo prima di tutto a portare un segnale, perché saremo il movimento più forte della storia del Parlamento europeo, siamo un movimento esordiente che porterà sicuramente più di 15 parlamentari e la stampa inglese ci ha già battezzato come la rivelazione di tutte le legislature del Parlamento europeo, non esiste un movimento esordiente che abbia mai portato da un solo Paese tutti questi parlamentari e che cosa succederà? Prima di tutto che arriverà uno tsunami lì, come ci è arrivato in Parlamento italiano, arriveranno una serie di stanze, andremo anche a guardare dall'alto in basso questo Parlamento europeo e questi Paesi europei che ci hanno guardato dall'alto verso il basso in questi anni, lo sapete che il Parlamento europeo ha due sedi, Bruxelles e Strasburgo e siccome la Francia si deve fare una marchetta elettorale tenendo il Parlamento a Strasburgo, la terza settimana funzionari, uffici, computer e parlamentari li trasferiscono a Strasburgo per una settimana e ci costano 180 milioni di Euro all'anno di spostamento e questi sono quelli che dovevano insegnare a noi come si faceva politica e come si faceva economia, sono degli spregoni anche loro, arriveremo lì, questo tsunami si abbatterà e probabilmente succederà anche che gli altri Paesi europei ci cominceranno a guardare e non escludo che nasceranno Movimenti 5 Stelle negli altri Paesi europei, siamo il movimento europeo, il movimento politico europeo più all'avanguardia d'Europa, gli altri stanno nascendo, ma alla fine passano il tempo poi molto spesso ad autodistruggersi, ci sono delle esperienze di movimenti negli altri Paesi sane e non mi riferisco alla Le Pen che è uno dei vecchi partiti dell'Europa, non mi riferisco ad Albadorata che è follia, io mi riferisco a movimenti sani che stanno nascendo, ma non sono così avanti come noi e noi andremo lì a portare l'avanguardia dei movimenti, porteremo uno dei movimenti più evoluti, contagieremo gli altri Paesi e già dalle stime fatte rispetto a circa 50 non iscritti del Parlamento europeo attuale, si prevedono oltre 150 parlamentari non iscritti, cioè non appartenenti ai gruppi politici convenzionali, addirittura il Washington Post parla del pericolo che ci sia una maggioranza relativa che è dei movimenti, che non è più dei partiti convenzionali come il PPE, il PSE, per loro è un pericolo, per noi è un'opportunità, è un'opportunità di portare lì dentro le istanze che abbiamo sempre portato in tutte le istituzioni della Repubblica italiana in questi anni e qual è la differenza? Poi concludo, è che noi abbiamo la credibilità per portare avanti questi temi, noi quando ci battiamo per il 416 terzo non facciamo compromessi a ribassi, se diciamo che i rimborsi elettorali non li prendiamo, non li prendiamo veramente, se ci dimezziamo gli stipendi, ci dimezziamo veramente gli stipendi, se diciamo che vogliamo combattere il fiscal compact, guardate che noi già stiamo studiando gli atti da dare ai parlamentari europei e presentarli il primo giorno del Parlamento europeo, noi vi chiediamo scusa se il primo giorno del Parlamento italiano non sapevamo neanche dove era la carta per fotocopia, ma questa volta non sarà così, noi abbiamo capito come funziona questa macchina e avremo già tutti gli atti pronti non appena andremo lì per caratterizzare i 7 punti del programma per le europee del Movimento 5 Stelle, questa è la certezza.